Un'ottantina di bambini disabili costretti ad attendere anche due anni per essere sottoposti alle cure riabilitative di cui necessitano la denuncia e dell'associazione H che chiede all'azienda sanitaria provinciale di intervenire al più presto. A Gela sono attualmente due le strutture che offrono questo genere di servizi, l'Aias e il centro autistici. Il consulente legale dell'associazione H, Paolo Capici. C'è un ritardo di circa due anni per il trattamento riabilitativo dei bambini che hanno problemi di autismo o di ritardo psicomotorio che è vergognoso e inconcepibile. I bambini sono, come si dice, sacri, hanno una priorità assoluta. Non possiamo assistere agli sperperi dell'ASP che va spendendo i soldi per cose magari superflue e mettere i bambini in lista d'attesa per due anni. Dal punto di vista umano è una vergogna, dal punto di vista legale si rischia anche una denuncia per danno permanente. Dal nostro punto di vista, se l'ASP non risponde, noi abbiamo fatto la diffida circa una settimana fa e i signori di Caltanessetta ancora non si sono scomodati, né tantomeno la presidenza della regione rappresentata dal nostro concittadino Crocetta, pensano di avere attenzione per questi bambini. Se non lo faranno loro, lo faremo noi attraverso una denuncia alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, perché riteniamo che ci sia distorsione di spesa e comunque al di là di ogni giustificazione che si possa presentare, non è assolutamente concepito. Qua parliamo di bambini che vanno da zero anni a due anni, cioè significa non intervenire in questa fascia, significa rovinare i figli dei genitori che hanno già un problema enorme. Si tratta, continua Paolo Capicci, di un problema che rappresenta una fonte di grave ed irreversibile documento tanto per i bambini che per le famiglie che devono affrontare costose terapie che invece dovrebbero essere assicurate dalle ASP. I bambini non possono attendere neanche un giorno, c'è uno spreco puro e crudo nella sanità. Bisognerebbe dare priorità assoluta a queste famiglie e razionalizzare al meglio i fondi destinati alla sanità. Un bambino in età precoce può recuperare fino all'80% delle sue capacità. Stiamo parlando, rimarca Capici, di bimbi che hanno un'età compresa fra i 3-4 mesi fino a 3 anni. Perdere anche un solo giorno può arrecare a questi bimbi, danni irreparabili. C'è anche un altro fatto grave che nessuno sorveglia come sono ripartite le somme e le risorse umane. Quindi è bene che qualcuno si organizzi perché altrimenti nel giro di dieci giorni una famiglia mi ha dato incarico di agire davanti al Tribunale Civile per un ricorso di procedura di urgenza, come si dice in gergo EX700. Inoltre io sono già pronto per manifestare tutte le nostre lagnanze alla Procura e agli organi competenti. Grazie. Grazie.